Cosa ci fai? Perché non si può venire a vedere una gara aperta al pubblico? Perché non lascia in pace mia figlia? Lei adesso è felice, ha trovato un uomo che è un uomo, non un papamolle come lei che dorme sempre. Oh, 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 che offende così che c'è gente qua, che fosse offeso lei o il suo fidanzato, non mi sembra, allora calma. Ma che è successo? Che è successo? Sì, 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 sì. Mi piace? Mi piace che è? Bene. Sì, 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 mi piace. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti